E le nuova, ma quanti le combinano con l'ospedale? Derek Sheffard è bellissimo, però mi piace molto anche Alex Carell Non è un ospedale, è una casa di tolleranza Allora, io vi ricordo che andrà in onda martedì prossimo, quindi il 23 ottobre, dalle 21.10 sulla 7 il primo episodio della nuova serie, l'ottava di Grace Anatomy e vi ricordo anche che se avete ancora delle curiosità o volete ancora sbirciare o sapere qualcosa in più potete andare a vedere sul sito della 7 www.graceanatomy.lasette.it Ma adesso vi anticipo un pezzettino, un assaggino di questa prima puntata che vedremo poi martedì sera sulla 7, vediamola insieme La commissione si è riunita oggi Hanno ritenuto che una sospensione manderebbe il segnale sbagliato Pensano che ciò che hai fatto denigri l'ospedale E la professione Mi dispiace Ho fatto tutto quello che ho potuto Allora che vuol dire? Allora che vorrà dire? Qui c'è un colpo di scena in arrivo Come ci aspettiamo? Sì, ma non promette bene Cioè a questo punto non riesco a capire che cosa sta per accadere Eh no, ci toccherà vederlo Assolutamente sì Allora, martedì sera alle 21.10 sulla 7 L'inizio dell'ottava edizione di Grace Anatomy Io ringrazio tantissimo Grazie a te Casalegno E Simone Michiari Come restate qui con noi Vi ricordo che poi da domani Ritorniamo al nostro orario abituale Quindi alle 14 Cristina Parodi Live Alle 17.50 Cristina Parodi Cover E vi lascio con un'ultima sorpresa In questo filmato tutti dietro le quinte E anche un po' gli erroretti Di Grace Anatomy Vi auguro una buonanotte Arrivederci Welcome to Grace Anatomy Are we going to the top? 5, 6, 7 Look at the apple gum Vomit Suck it Keep getting Grey's Anatomy Back up your travels in your rock And then smile, smile, smile Just think of all the happy times And have a smile on that's the side And have a smile on that's the side In the middle of theorrho